Allora questo è sicuramente uno di quei video in cui sarà molto interessante andare a leggere nei commenti cosa ne pensate, quanto vi scannate tra di voi, quanto scannerete me, perché? Perché ovviamente qua si parla di Achille Lauro, un personaggio molto divisivo, ma sicuramente il dato di fatto è che lui è in mezzo all'industria musicale, ci vive, ci sguazza dentro e quindi sicuramente ne sa molto di più rispetto a molti altri leoni da tastiera che invece stanno lì a commentare ma che non sanno come funziona un certo mondo musicale, dell'industria musicale ovviamente. Allora in particolare quello di cui volevo parlare era una cosa che avevo detto in un podcast che avevo pubblicato il primo febbraio 2020 e parlavo proprio della falsa percezione nei confronti di alcuni artisti che magari venivano percepiti come molto importanti ma non lo erano. E praticamente in una recente intervista che Marco Montemagno ha fatto ad Achille Lauro, lui ha proprio espanso questo concetto e quindi ne volevo parlare per andare a vedere quanto effettivamente Achille Lauro ha confermato un po' quello che dicevo io nel podcast appunto con Pietro Posani. Andiamo a vedere la sigla e poi cominciamo a parlare di questa cosa. Molto bene, allora ciao Strimpellari, allora il primo febbraio del 2020 pubblicavo questo podcast in cui dicevamo questa cosa qui. I pinguini adesso sono quasi mainstream, nel senso sono a stare in questa... Esatto tra l'altro, se non sbaglio faranno dei palazzetti forse. Sì sì, assolutamente. C'è il turno dei palazzetti che voglio dire neanche quelli che fanno trap che tanto si dice la trap adesso, numeri uno. Sì però i palazzetti li riempiono i pinguini. I palazzetti del ghiaccio. Allora, prima di tutto vi lascio il link al podcast completo ovviamente in descrizione. Mi preme anche sottolineare il fatto che questa intervista era stata fatta prima di quel Sanremo in cui appunto i pinguini tattici nucleari sono diventati ancora più famosi rispetto a quello che erano già prima. Infatti quando parlavo del tour dei palazzetti era ancora prima della loro esposizione a livello veramente mainstream che è avvenuta appunto dopo Sanremo. E in quel podcast in particolare mi interessava parlare e cercavo di far comprendere il mio pensiero sul fatto che a volte c'è un distacco totale tra quello che andiamo a leggere sui media e quella che invece è la realtà dei fatti. Ovvero quando per esempio un artista o un movimento musicale o un genere come può essere stato quello della trap per esempio viene talmente tanto cavalcato perché parlare male di un certo artista fa notizia è stato così per praticamente tutti gli artisti trap mainstream e quindi ne continuano a parlare costantemente parlano di questo e parlano dello scandalo di quell'altro eccetera eccetera ma questo i giornali lo fanno per un semplice motivo perché con il titolo, con all'interno, la faccia di quello tatuato in faccia eccetera eccetera fa più notizia, fa cliccare di più. Grazie a questo praticamente c'è questa percezione del fatto che questi artisti siano veramente importanti perché? Perché sono tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali o in generale ne parlano costantemente tutti senza contare ovviamente il pubblico non può sapere che magari un certo media un certo giornale, una certa radio ne parla solo per fare notizie per fare in modo che le persone ascoltino loro o leggano loro e quindi c'è questo scontro con la realtà la realtà qual è? è che se un artista, un musicista, qualsiasi artista che sia in ambito musicale la verità è che si vede esattamente quanto questo artista abbia dei fan quanto abbia senso di esistere nel momento in cui va a fare un concerto e quindi io gli dicevo appunto parlano tutti di artisti trap come poteva essere Spera e Basta magari una volta e altri, altri comunque però alla fine chi è che riempie i palazzetti? poi qualcuno mi potrà dire sì ma ce n'è uno che li ha riempiti tre volte in un anno sì ho capito però un conto è non far concerti tutto l'anno e poi fare tre palazzetti appunto in un anno un conto è fare un tour intero tutto l'anno nei palazzetti è totalmente un'altra cosa proprio a livello di numeri cioè non è una questione di opinioni ovviamente tra l'altro ad oggi i pinguini tattici nucleari hanno fatto se non sbaglio un sold out a San Siro San Siro in 12 ore che San Siro ha grandi linee se non vado errato è come riempire dieci palazzetti ok? allora intanto mi raccomando spero tu non abbia perso l'intervista che avevo fatto a Nicola buttafuoco dei pinguini tattici nucleari quindi ti metto anche di quella il link in descrizione che puoi andare a vedere un bellissimo podcast con lui io nel cercare di ispirare questa cosa che secondo me è una cosa abbastanza banale da capire ma vedevo che soprattutto in quel periodo là nessuno mi credeva perché diceva ma com'è possibile che questi siano primi su Spotify che ne parlano tutti i giornali e veramente non fanno i numeri magari di altri artisti David sei un contaballe sicuramente in realtà fanno più numeri di tutti perché ne parlano tutti eccetera eccetera io mi ero concentrato soprattutto sul fatto che i media ne parlassero perché semplicemente le notizie facessero parlare ripeto non la musica ma solo le notizie Achille Lauro in realtà in questa intervista con Montemagno espande ancora di più il problema e vediamo lo spezzone in cui parla proprio di una cosa che c'entra proprio con il discorso che facevo io vediamo questo è pescato un punto secondo me nevralgico, critico della discorso italiana perché c'è un po' questo essere annebbiati ma devo dire anche chiaramente anche le case discografiche dopo due anni di pandemia quindi non avendo più rapporto con il mondo vero sono un po' non capiscono bene il rapporto tra mondo reale e numeri anche perché ricordiamoci sempre questo ragazzi un pubblico di 10.000 persone di età di 10 anni ok? età di 10 anni ascolta in modo compulsivo la canzone 100 volte al giorno e magari l'anno prossimo non ti segue più un pubblico di 10.000 trentenni magari ti seguirà per sempre verrà a tutti i tuoi concerti per sempre ma non fa streaming cioè chi è che ascolta le canzoni in modo compulsivo 100 volte al giorno? a 30 anni nessuno, pochissimi ok allora prima di tutto ovviamente ti metto anche l'intervista completa in descrizione nel caso volessi vederla ovviamente quindi questo è un po' il concetto cioè non facciamoci abbagliare dalle views dei video su youtube dai numeri dello stream o da quanto la gente ne parla di un certo artista perché questo non è come dire ok allora dato che ne parlano tutti dato che fa tante views dato che fa tanti ascolti stream su spotify allora sarà famoso e tutti andranno a vedere un suo concerto sicuramente più di un gruppo magari emergente che non conosce nessuno questo mi sembra palese però per esempio andiamo a vedere quali sono io sono andato a vedere il calendario di San Siro per esempio di quest'estate dove sono stati fatti una serie di concerti ovviamente tutti di personaggi teniamo presente che San Siro in Italia è un traguardo enorme per qualsiasi musicista artista chi arriva a riempire con un concerto a San Siro vuol dire che veramente è un livello di popolarità incredibile allora andiamo a vedere quali sono quelli che hanno fatto dei concerti a San Siro questa estate partendo dall'ultimo e cosa fa ridere perché c'è un doppio senso partendo dall'ultimo dei concerti a scalare verso l'inizio abbiamo ultimo appunto poi c'è Max Pezzali poi c'è Alessandra Moroso quindi abbiamo personaggi ovviamente pop come è sempre stato Guns N'Roses quindi rock internazionale Salmo Rolling Stones Marco Mengoni Cremonini e Dalton John ok questi sono tutti i concerti che sono stati fatti a San Siro questa estate quindi queste sono le persone che veramente riempiono gli stadi quelli che fanno veramente peso all'interno del panorama musicale italiano e non c'è neanche uno che faccia rap ma è come sempre cioè il fatto è che non è cambiato assolutamente niente abbiamo personaggi pop come sempre il pop riempie gli stadi ma è sempre sempre stato così e poi abbiamo grandi nomi del rock internazionale anche quello lo sapevamo già e poi cos'altro vabbè un po' di rap però stiamo parlando di rap a livello di pop insomma quindi sicuramente cose sempre viste nulla è cambiato questo secondo me fa molto riflettere ci siamo anche lamentati molti si sono lamentati della deriva della musica eccetera ma alla fine la maggior parte delle persone continua ad ascoltare la stessa musica che si ascoltava vent'anni fa se noi andiamo a inquadrare dare delle etichette a questi personaggi che hanno riempito San Siro andiamo a vedere magari chi aveva riempito San Siro nel 2020 in realtà non l'ho fatto ma sarebbe interessante andare a vedere più o meno avremo pop rock internazionale sempre sempre le stesse cose bene quindi io direi che mi fate sapere cosa ne pensate anche voi ovviamente mi è venuto in mente di parlare di questa cosa semplicemente perché ho visto l'intervista di Laura ho detto ma guarda te effettivamente cioè io lo dicevo un bel po' di anni fa cioè un bel po' un paio di anni fa ed è interessante questa cosa perché detto da uno che la vive l'industria musicale da dentro è una conferma molto molto interessante tra l'altro vi spingo anche ad andare a vedere il podcast che abbiamo fatto insieme a Riperiani dove si parla di industria musicale è molto molto interessante detto questo mi raccomando se volete imparare o migliorare a suonare la chitarra andate su chitarrafacile.com e trovate il sito principale con tutto quello che vi serve ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.